Esperti, rappresentanti sindacali, lavoratori e cittadini si sono confrontati al Museo delle Gentili d'Abruzzo a Pescara sul tema quale salario minimo legale che è stato al centro del seminario promosso dalla UIL Abruzzo. Con il termine salario minimo legale si intende la paga minima che ogni lavoratore dovrebbe ricevere all'ora, al giorno, al mese. Si tratta di una misura che il Governo punta ad introdurre per regolamentare le retribuzioni ed inserire in ogni contratto di lavoro delle fasce sotto le quali non scendere mai. Il salario minimo legale spetterebbe ai lavoratori subordinati e a quelli parasubordinati, le cui prestazioni si avvicinano in parte al lavoro subordinato e in parte a quello autonomo, come per esempio i lavoratori a progetto, i collaboratori continuativi e quelli occasionali. Ad averne diritto sarebbero anche i praticanti degli studi professionali. Ci aspettiamo un confronto e strategie efficaci dal nuovo Governo, hanno detto il segretario nazionale della UIL Tiziana Bocchi e il... Speriamo ovviamente, così come ci pare dai primi segnali che abbiamo, che innanzitutto si apre il confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative in questo territorio nazionale per far sì che se legge ci deve essere sia una legge che vada soprattutto a coprire quelle fasce più deboli dei lavoratori, scarsamente rappresentati dal mondo sindacale. Noi non riteniamo che non ci sia bisogno di dire che c'è un valore unico, io lo chiamo il numero magico, che risolverà i problemi una volta individuato. Bisogna fare in modo di combattere l'evasione contrattuale, fare in modo che l'Ispettorato nazionale del lavoro si doti di persone e di persone competenti per fare una politica di controllo effettiva, efficace, di merito e poi noi chiediamo che se vogliamo dare un riferimento minimo, allora diamo i riferimenti minimi dei contratti nazionali, che quelli diventino, come dire, quindi non un valore minimo, ma tanti valori minimi quanti sono i minimi contrattuali già previsti dai singoli contratti nazionali. Grazie.